La parola quotidiana di Dio Dio si è incarnato nella Cina continentale, in quella che i compatrioti di Hong Kong e Taiwan chiamano la Terraferma. Quando Dio venne dal cielo sulla terra, nessuno né in cielo né in terra lo sapeva, poiché questo è l'autentico significato del ritorno di Dio nel nascondimento. Egli ha operato e vissuto per lungo tempo nella carne, eppure nessuno lo ha saputo. Ancora oggi, nessuno lo riconosce. Forse resterà per sempre un mistero. Dio che viene nella carne, questa volta, non è qualcosa di cui chiunque possa essere consapevole. Indipendentemente da quanto l'opera dello Spirito agisca su larga scala e con potenza, Dio se ne resta tranquillo, senza mai farsi scoprire. Si potrebbe dire che è come se questa fase dell'opera venisse compiuta nel Regno Celeste. Sebbene sia perfettamente ovvia a tutti, nessuno la riconosce. Quando Dio avrà completato questa fase della Sua opera, tutti si risveglieranno dal lungo sogno e ribalteranno il loro precedente modo di pensare. Ricordo che Dio una volta ha detto «Incarnarsi questa volta è come cadere nella tana della tigre». Ciò sta a significare che, poiché questa tappa dell'opera di Dio prevede che Egli venga nella carne e nasca nel luogo in cui risiede il Gran Dragone Rosso, la Sua venuta sulla terra, questa volta, è accompagnata da pericoli ancora più estremi. Ciò che Egli affronta sono coltelli e fucili e mazze. Ciò che Egli affronta è la tentazione. Ciò che Egli affronta sono folle dagli sguardi assassini. Egli rischia di venire ucciso in qualsiasi momento. Dio è venuto con ira. Tuttavia, Egli è venuto al fine di compiere l'opera di perfezione, vale a dire per compiere la seconda parte della Sua opera, dopo l'opera della redenzione. Dio ha dedicato ogni suo pensiero e cura alla realizzazione di questa fase della Sua opera e utilizza ogni mezzo possibile per evitare gli assalti della tentazione, nascondendo se stesso con umiltà e senza mai ostentare la propria identità. Salvando gli uomini per mezzo della croce, Gesù stava solo completando l'opera della redenzione, non svolgendo l'opera di perfezione. Così, solo metà dell'opera di Dio era in fase di compimento e portare a termine l'opera di redenzione costituiva solo metà dell'intero piano divino. Quando la nuova era stava per cominciare e la vecchia per terminare, Dio Padre ha cominciato a deliberare la seconda parte della Sua opera e ha iniziato a prepararvisi. Nel passato, può darsi che questa incarnazione negli ultimi giorni non sia stata profetizzata e, pertanto, ciò ha posto le basi della cresciuta segretezza che circonda l'attuale venuta di Dio nella carne. Al giungere dell'alba, all'insaputa di tutti, Dio è venuto sulla terra e ha cominciato la Sua vita nella carne. La gente non era consapevole di tale momento. Forse erano tutti profondamente addormentati. Forse molti di quelli che stavano vegliando erano vigili nell'attesa e forse molti stavano pregando in silenzio Dio in cielo. Eppure, tra tutte queste persone, nemmeno una sapeva che Dio era già giunto sulla terra. Dio ha agito in questo modo, così da portare avanti senza intoppi la propria opera e ottenere dei risultati migliori e lo ha fatto anche per evitare ulteriori tentazioni. Quando il tranquillo sonno dell'uomo si interromperà, l'opera di Dio sarà già finita da tempo ed Egli se ne andrà, mettendo fine alla propria vita di vagabondaggio e di soggiorno sulla terra. Poiché l'opera divina richiede che Dio agisca e parli di persona e poiché l'uomo non ha modo di aiutarlo, Dio ha sopportato sofferenze indicibili per venire sulla terra a svolgere Egli stesso il lavoro. L'uomo non è in grado di sostituire l'opera di Dio. Pertanto Dio ha corso dei pericoli infinitamente più grandi di quelli incontrati durante l'età della grazia per scendere nel luogo in cui dimora il gran dragone rosso al fine di compiere la propria opera, riporre ogni pensiero e cura nella redenzione di questo gruppo di persone svigorite, di questo gruppo di persone affondate nell'etame. Sebbene nessuno sappia dell'esistenza di Dio, Egli non ne è turbato perché ciò è di grande beneficio per la sua opera. Tutti sono atrocemente malvagi, pertanto come può qualcuno tollerare l'esistenza di Dio? Questo è il motivo per cui sulla terra Dio resta costantemente in silenzio. Per quanto l'uomo sia eccessivamente crudele, Dio non se la prende a male e si limita a compiere il lavoro che deve, così da portare a compimento l'incarico più grande che il Padre Celeste gli ha affidato. Chi di voi ha riconosciuto l'amorevolezza di Dio? Chi mostra una considerazione per il fardello di Dio Padre maggiore di quella che dimostra suo Figlio? Chi è in grado di comprendere la volontà di Dio Padre? Lo spirito di Dio Padre nei cieli è spesso turbato e il Figlio sulla terra spesso prega perché si compia la volontà di Dio Padre, straziando il proprio cuore. C'è qualcuno che conosce l'amore di Dio Padre per il proprio Figlio? C'è qualcuno che sa quanto il Figlio di letto senta la mancanza di Dio Padre? Combattuti fra cielo e terra, i due si rivolgono costantemente lo sguardo da lontano, fianco a fianco nello spirito. O uomini, quando prenderete in considerazione il cuore di Dio, quando comprenderete le intenzioni di Dio? Padre e Figlio sono sempre dipesi l'uno dall'altro. Perché allora dovrebbero stare separati, uno nell'alto dei cieli e uno in basso, sulla terra? Il Padre ama il proprio Figlio come il Figlio ama il proprio Padre. Perché allora Egli dovrebbe aspettare con tale anelito e anelare con tale ansia? Sebbene non siano separati da molto tempo, qualcuno sa che il Padre ha già trascorso molti giorni e molte notti in ansiosa attesa, desiderando che il suo amato Figlio torni presto. Egli osserva, siede in silenzio, attende e tutto ciò per il ritorno del suo amato Figlio. Quando Egli potrà di nuovo riunirsi al Figlio che ora vaga per il mondo? Anche se un tempo erano insieme e saranno di nuovo insieme per l'eternità, come può Egli sopportare le migliaia di giorni e di notti di separazione, uno nell'alto dei cieli e l'altro giù sulla terra. Decine di anni sulla terra sono come migliaia di anni in cielo. Come potrebbe Dio Padre non esserne preoccupato? Quando scende sulla terra, Dio sperimenta le molteplici vicissitudini del mondo umano, proprio come le sperimenta l'uomo. Dio stesso è innocente e allora perché permettere che Dio soffra la stessa pena dell'uomo? Non dè sta meraviglia che il Padre desideri tanto ardentemente rivedere il Figlio. Chi può mai comprendere il cuore di Dio? Dio dona troppo all'uomo. Come può l'uomo ripagare il cuore di Dio in modo adeguato? Eppure l'uomo dà a Dio troppo poco. Come potrebbe Dio, quindi non esserne preoccupato. Eppure di Dio